Ho aderito a questo progetto delle 100 piazze perché ritengo che Internet sia una porta sul mondo. Stiamo cercando in Puglia di aprire 100 di queste porte, sono convinto che la possibilità della conoscenza che da Internet non ha uguali al mondo e lo stiamo vedendo anche quello che sta accadendo nei paesi arabi. Per cosa utilizzo Internet? Lo utilizzo per leggere giornali, per acquisire informazioni, per acquisire documentazione. Spesso faccio una sorta di surf sulla documentazione e cerco di approfondire quello che poi più mi interessa. Quali sono i servizi o i settori che possono essere beneficiati da questo progetto di Internet gratis? Credo il settore turistico. Provo a immaginare nelle piazze pugliesi la possibilità per gli enti locali, ma anche per associazioni culturali, anche per le chiese, la possibilità di scaricare un applicativo per i turisti, i turisti che possono conoscere quelle che sono le rilevanze dal punto di vista urbanistico, architettonico, storico e religioso, dei centri storici delle piazze e dei monumenti che si affacciano su quelle piazze. Per cosa utilizzerò io Internet Wi-Fi gratuito per fare la disdetta all'abbonamento che ho.